Highlights di gara 1 del campionato dello sport prototipi da Misano con il confronto fra Giacomo Polini e Davide Uboldi due soli millesimi a dividerli in qualifica con Uboldi che si porta davanti in curva 1 e inizia la sua fuga per questa corsa fuga che però si completerà già nel corso del primo giro per uno testa con un errore da parte di Uboldi che verrà poi centrato da Castellano proprio nel corso della prima tornata condizione che porterà alla bandiera, alla esposizione della full corsiello safety car che partirà in pista con la ripartenza con Roccadelli che si era portato in prima posizione davanti a Giacomo Polini vede subito il sorpasso di Giacomo per la prima posizione con anche il tentativo di recupero da parte di Medina e di Matteo Polini alle loro spalle il testa coda che però pone fine alle speranze di podio da parte di Medina che riesce a ripartire quando però Matteo Polini era già passato inizierà anche Lazzaroni a lottare con Racamion, testa coda per Steve Brooks nella parte centrale del gruppo che non porta però nessuna modifica sulla classifica, gli ultimi metri che regalano il successo di questa gara 1 a Misano di Giacomo Polini Giacomo che va ad allungare in campionato, 60 punti nei confronti di Davide Uboldi che resta fermo a 32 lunghezze in seconda posizione podio completato anche da Matteo Roccadelli